Fame e solo due uova in casa? Prepariamo un pranzo super veloce! Mettiamo a scaldare un filo d'olio con uno spicchio d'aglio Versiamo il pomodoro, aggiungiamo un pizzico di sale e togliamo lo spicchio d'aglio Qualche folia di basilico e infine rompiamo due uova Le mescoliamo velocemente e continuiamo la cottura Tagliamo qualche fetta di pane e strusciamoci sopra uno spicchio d'aglio Facciamola brustolire in forno, un filo d'olio e un po' di pepe Serviamo uova e pomodoro in un piatto e accompagniamole col pane È semplicissimo ed è un piccolo suggerimento quando non sapete cosa fare Facciamola brustolire in forno